Carbonara, economica contro carbonara costosa. Vale la pena spendere 20 euro per una carbonara. Che c'è sta con noi? C'è Giulia? Ciao, andiamo in questa missione carbonara. Il primo posto che andiamo a visitare è pasta asciutta, 6,50 euro. Il classico d'ore di quando fai le prime volte la carbonara, cioè guarda quanta carbocrema liquida. Oddio, non dire carbocrema, Ale, te prego. Troppa carbocrema, mi triggera, mi triggera. Troppa carbocrema. Sciapetto, 120 grammi a Napoli a 5 euro, la fa meglio. A Napoli? Questa fa male, eh. Vabbè ma stai a fianco al Vaticano, questi saranno venuti, tipo non lo so, dalla Francia saranno venuti. Mi aspettavo peggio, mi piace molto la cottura della pasta, secondo me va contestualizzato per il luogo. 6,50 euro ci può stare. Quindi andiamo a provare egg, 7,50. Confronto matto, qua zzz, bacchiamo tutto. Bella carina, più piccola, non mi ha fatto la frittata però. No. Col calore si è addensato a un po' di carbocrema. No. Il guanciale però è più carino. Vale la pena spendere un euro in più. Prova. Grazie.